Parte la sesta edizione di Poeté, il ciclo di incontri letterari che ha come suo scopo principale la lotta a qualsiasi forma di esclusione e razzismo che riguardi l'identità, il genere e l'etnia. Ancora una volta ad ospitare i summit poetici sarà il Chiaia Hotel de Charme. Gli incontri si protrarranno sino all'aprile dell'anno prossimo. La letteratura al servizio della condivisione nella tutela di ogni persona umana. Questo è il senso profondo dell'iniziativa presentata nella sala Pignatiello del Comune di Napoli. Ascoltiamo il direttore artistico Claudio Finelli e Simona Marino delegata alle pari opportunità del Comune di Napoli. Abbiamo la partnership di Arcigay, abbiamo la partnership importantissima della fondazione Genere, Identità e Cultura e anche una cosa molto interessante è la partnership di un'antica azienda napoletana che è Bellomunno. Perché l'azienda Bellomunno già da qualche anno ha cominciato a comprendere l'importanza del sostegno etico a manifestazioni di cultura che potrebbero essere apparentemente anche lontane da quello che è il loro lavoro quotidiano. E poi chiaramente Arcigay Salerno, Arcigay Regione Campania, insomma il network di persone siropositive che è un altro importante segmento della nostra lotta a qualsiasi forma di stigma e di discriminazione. L'associazione Volo Libero, insomma ce ne stanno tantissime associazioni che giornalmente si battono contro qualsiasi forma di esclusione che ci sono vicine perché credono nel fatto che la cultura e solo la cultura può realmente cambiare l'immaginario di questo paese. Poetè è un'esperienza molto bella che si è arricchita negli anni e che noi ci auguriamo possa proseguire perché uno degli elementi più importanti è la prevenzione rispetto alla discriminazione e ogni forma di contrasto alla violenza di genere e credo che il lavoro della prevenzione migliore che si possa immaginare sia quello culturale.